Prove di dorato agli studi di Ragusa è imminente la nomina di un reggente di altra provincia e l'allarme lanciato dalla CGL Iblea. Aveva aggredito il medico che stava rianimando un suo parente e poi morto? Denunciato, individuato l'autore dell'aggressione compiuta il 27 dicembre scorso all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Pedibus Ragusa parte la sperimentazione nella scuola Cesare Battisti, il progetto di mobilità alternativo già operativo nella scuola Parazzello. Sinora si tratta di indiscrezioni ma secondo la CGL, in particolare il segretario generale Giovanni Avola che ha firmato oggi un comunicato stampa su questo argomento, queste indiscrezioni sarebbero molto più reali di quello che si pensa. L'ufficio scolastico regionale starebbe per nominare reggente a Ragusa il vicario facente funzione dell'ufficio territoriale di una provincia limitrofa che ha la stessa qualifica del vicario facente funzioni a Ragusa. La natura della scelta, scrive Avola, sarebbe riconducibile ai misteri e le usini della politica, con l'aggravante che la scuola ragusana, come è accaduto negli ultimi due anni, avrebbe un dirigente solo per poche ore settimanali e con la mortificazione dell'attuale vicario che diventerebbe un subordinato di un suo parigrado promosso pare dalla politica. Una mortificazione per il territorio, secondo Avola, per il funzionamento della scuola eblea e per il funzionario, la dottoressa Comitini. Se il funzionario della provincia limitrofa, aggiunge Avola nella nota, potrà essere promosso dirigente e diventare reggente a Ragusa, perché il suo omologo dell'ufficio ragusano non potrà essere promosso dirigente nella sua sede di titolarità e garantire così la presenza per l'intera settimana? La manutenzione stradale è carente. Per rattoppare una buca occorrono decine di segnalazioni con interventi che troppo spesso tardano ad arrivare. Nella rotatore di Viale Europa, angolo via Ugolamalfa a Ragusa, le segnalazioni dei residenti per una grossa buca sono state decine. Solo nella giornata di ieri l'ufficio tecnico ha provveduto a ricoprire in modo maldestro l'enorme voragine con una lamiera. Chiediamo agli uffici preposti, spiegano alcuni cittadini, di fare un monitoraggio di tutte le strade della città e di quelle in particolare dove necessitano interventi urgenti. È stato individuato l'aggressore del medico rianimatore che è stato aggredito lo scorso 27 dicembre all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Si tratta di G.A. del 1960, che ha colpito violentamente il medico procurandogli una lesione al setto nasale che è risultata poi guaribile in 25 giorni. L'uomo ha anche minacciato l'operatore sanitario mentre stava prestando le cure al parente dell'aggressore che poi però è deceduto. Quindi l'aggressione è avvenuta proprio mentre il medico anestesista tentava di rianimare il paziente. Il medico sordito per il colpo è caduto per terra e non ha potuto proseguire nella sua opera. La polizia ha ascoltato le deposizioni dei vari testimoni e alla fine ha ricostruito con esettezza l'accaduto segnalando è stato di libertà G.A. Nascondevano la droga sotto il sedile della loro auto. Due coniugi comisani, Biaggio Severino del 1986 e Adriana Cilio del 1991, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Comiso in via Mario Battaglia della città Casmenè. Sottoposti a perquisizione veicolare, i carabinieri hanno trovato un involucro in celafane contenente mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana abilmente occultato sotto il sedile anteriore lato passeggero che era appunto quello occupato dalla moglie. Il marito è stato associato al carcere di Ragusa mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. La sostanza sequestrata ai coniugi complessivamente se fosse stata venduta al dettaglio nelle piazze del capoluogo Ipparino e della città Casmenèa avrebbe potuto fruttare fino a 5.000 euro. La casificazione si farà anche in carcere. Il progetto creato e gestito dal distretto Sicilia Malta con capofila in Rotary Club Ragusa Area nasce dalla esperienza in campo nella formazione casaria presso le due case circondariali della provincia di Ragusa e dalla necessità di dotare le strutture di un'adeguata attrezzatura per la realizzazione dei futuri corsi. I club hanno dotato grazie alla collaborazione della Rotary Foundation del Dipartimento Veterinario dell'Aspi 7 di Ragusa gli istituti penitenziari di Modica e di Ragusa dell'attrezzatura di base per la lavorazione del latte in modo tale da avviare un'attività di formazione teorica e pratica volta a fornire conoscenze sull'attività del casaro. Il Rotary è un club service che opera sul territorio attraverso la professionalità dei propri soci. Il progetto di casificazione che oggi viene qui presentato è una di queste reali, pratiche, veritiera opportunità di proiezione sul territorio perché i sei club dell'area Iblea si sono uniti in una idea già portata avanti negli anni scorsi dove attraverso le professionalità di un casaro di lunga tradizione viene insegnato a persone che in questo momento hanno una libertà ridotta la capacità di poter imparare un mestiere. Un progetto che ha grandi risvolti, che non è una novità perché si ripete ormai da qualche anno e che per noi è un'opportunità perché consente ai detenuti di apprendere delle conoscenze, delle esperienze che sicuramente potrebbero essere spese in maniera efficace una volta al di fuori del contesto penitenziario. Quindi siamo lieti ogni anno che il Rotary Club ci offra questa opportunità anche perché il contatto con la società esterna è uno degli elementi fondamentali del trattamento perché un trattamento condotto all'interno dell'istituto senza alcun contatto con l'attività esterna sarebbe un trattamento condotto secondo schemi di vita che sarebbero innaturali. Il contatto con l'esterno consente al detenuto di acquisire o quantomeno di corroborare, di rafforzare quelli che sono i modelli di vita sociale comunemente condivisi. Questo progetto è nato da esperienze passate in quanto noi abbiamo organizzato già due corsi a Ragusa e due corsi a modo di caseificazione. Ovviamente abbiamo voluto fornire le due strutture di un'attrezzatura di base fissa che ci possa servire quando organizzeremo nel futuro, nei prossimi mesi sicuramente, i vari corsi di caseificazione. Questo è un progetto che è stato per la prima volta finanziato dal Rotary International e in particolare dal distretto Rotary del 2110 Sicilia e Malta. Da questo poi ovviamente andremo oltre con altri progetti e con altre iniziative presso le case circondaliari sia di Ragusa che di Modica. Quest'anno la Rotary Foundation e i vari club dell'area Iblea hanno contribuito nell'acquisto di attrezzatura, nell'acquisto di materiale di consumo per quanto riguarda questo corso, consentendo una maggiore disponibilità di posti in più rispetto agli scorsi anni, in quanto gli scorsi anni era soltanto il nostro club Rotary Ragusa Iblea che gestiva questi corsi, sempre con l'aiuto, l'integrazione e il controllo dell'ASP 7 di Ragusa. È partita giovedì mattina la sperimentazione del progetto Pedibus per la scuola Cesare Battisti. Si è iniziato oggi con la linea celeste di questo progetto che prevede mobilità alternativa, cioè i bambini che frequentano le scuole elementari Cesare Battisti, di muoversi per strada. Al fianco dei bambini naturalmente gli operatori, i volontari, i cosiddetti tutor, i genitori che hanno aderito a questo progetto. Sì, oggi è il primo giorno, è una fase sperimentale, le due linee sono state già effettuate oggi e domani proveranno le altre quattro linee. È un'idea che portiamo avanti fin dall'inizio dell'anno e l'obiettivo è quello di rendere più autonomi i bambini, far sì che conoscono la città, che sappiano muoversi autonomamente e anche quello di decongestionare il traffico che in una scuola come la Cesare Battisti che è al centro di Ragusa è un problema non indifferente. Battista ha raccolto le margherite, uno scherzo comico in un atto di Giancarlo Iacono, costumi di Federica Bisegna, scene e regia di Vittorio Bonaccorso. Lo spettacolo della compagnia Godò di Ragusa si svolgerà sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18 al Teatro Don Bosco, a Ragusa. Scherzo comico perché è riferito appunto al mondo delle comiche che si chiama Battista ha raccolto le margherite. È un testo originale di Giancarlo Iacono con la mia regia, io sono Vittorio Bonaccorso, e qui vicino ho una delle interpreti, una nostra allieva, ormai un'attrice provetta, Giulia Guastella, che magari vi può dire qualcosa sullo spettacolo. Cosa? Chi? Giulia Guastella. No, sono entrata troppo nel personaggio. E niente, se vi volete fare quattro risate, venite a vedermi, non a vederli perché voi già con loro vi siete fatte abbastanza risate. Una novità, ci siamo anche io e la mia amica Anita Pomario, che vi faremo ridere. E solo voi ci siete? I maschietti non li consideriamo? Beh, anche Ciccio Piccitto e Giancarlo Iacono. Ah, vabbè, Vittorio, che non l'hai detto. Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, tutti gli oggetti. È un altro, non l'hai entrata. Ah, giusto! È Angelo Fiorile. È perché sono entrata nel personaggio, capito? Poi capirete. Passa il microfono. Esatto. La presentazione di Giulia è stata perfetta, anche perché lei ha dato un anticipo di uno dei ruoli che lei interpreta, quindi era tutto preparato. Comunque, a parte gli scherzi, ma non tanto a parte, visto che di uno scherzo comico si tratta, venite a teatro. È il modo migliore per sostenere il teatro, per dimostrare che il teatro vi sta così tanto a cuore, come sembra che ormai la nostra città voglia dire fortemente, visto che ogni giorno incessantemente si parla del teatro. E il teatro per questo weekend lo facciamo anche noi, la Compagnia Godot, ai Salesiani, al Teatro Don Bosco. È uno spettacolo divertente, è tutto un susseguirsi di situazioni strampalate e di personaggi che si rincorrono, i personaggi appunto più surreali, ma che in qualche modo ci richiamano a quel mondo meraviglioso, che è il mondo delle comiche, che è il mondo che i grandi maestri come Chaplin, Buster Keaton, Staglioglio ci hanno insegnato ad amare e che noi, nel nostro piccolissimo, chiaramente perché non potremmo mai avvicinarci a tale genialità, vogliamo in qualche modo solo ricordare. Quindi portate anche i vostri bambini, i vostri figli, perché è uno spettacolo adatto a tutti, da zero a cento anni. E chi se lo perde, ve lo dico e confesso. Una partita dalle mille insidie, con la capolista Mister Bianco nel campionato di volley di Serie B2, che gioco sabato sera al Palazzama Ragusa contro l'Oxain. Per la formazione ragusana una sfida quasi impossibile, ma l'obiettivo è dare il massimo e chissà, magari tentare la grande impresa. Sì, perché affrontiamo il Mister Bianco prima della classe, finora con un percorso quasi perfetto. Una sola sconfitta per tre a due a cinque fronti e poi solo vittoria. Noi proviamo a fare l'impresa, ma per provare a fare l'impresa dobbiamo fare la partita perfetta. Cioè giocare veramente, intanto con tanta grinta, col sangue agli occhi, veramente, perché solo così possiamo riuscire a mettere qualche sassolino e l'ingranaggio del Mister Bianco. Dopodiché, chiaramente, con tanta grinta, se c'è la grinta, se c'è la voglia, se c'è la determinazione, poi il gesto tecnico viene comunque più facile. Noi in questo momento pecchiamo invece molto dal punto di vista della grinta, della determinazione, così come visto in quel di cinque fronti, dove la partita è stata veramente una sofferenza per noi, perché non ho mai visto i ragazzi non giocare così come hanno fatto a cinque fronti. È stato un vero peccato, perché d'altronde non abbiamo assolutamente nulla da perdere in questo campionato. Stiamo facendo un campionato al di là delle nostre, delle più rose previsioni. I ragazzi dovrebbero scendere in campo con quella voglia, con quella spenseratezza, con quella spenseratezza che può portare solo a fare cose buone. Questo invece non è successo a cinque fronti, speriamo che invece succeda contro il Mister Bianco. Questa partita viene giusto a puntino proprio per riscattarci questa brutta prestazione di sabato scorso. Beh, sicuramente questa è una partita di cartello, arriva una squadra dove ci sono grandi nomi, sarà comunque uno spettacolo bello da vedere. Il pubblico ragusano è sempre più numeroso e penso che farà sentire la sua voce anche in questa occasione.